Allora, ci pensate quanta roba c'è in giro, tra dischi, fie, dischi, riviste, libri, giornali, fumetti, antologia, ristampe. Allora, queste sono, erano uscite in edicola qualche anno fa, i grandi sceneggiati della Rai, radio, televisione, italiana. Noi abbiamo solo i primi due, il primo sono le puntate dall'1 al 4, e il secondo è le puntate dal 5 all'8, non so se ce ne sono di più o se si ferma al secondo. Questa è l'odissea, famosa odissea, il rifacimento televisivo dell'odissea di Omer. Regia di Franco Rossi, con Beck, Infemio e Irene Papas. Raikon. Ah, Centauri, è vero. Ce l'aveva mandata la Centauri, insieme ai libri. Una delle apere epiche più affascinanti, l'odissea. Scusate, c'ho poca luce. Vedete, si tirava fuori così. C'era il disco, qui c'è, capisco. Ah, vedete, si tirava fuori così il disco. Bene, ma alla prossima. C'è, capisco. Grazie. Grazie.